Lo sviluppo della democrazia in Atene nel V secolo è stato una fonte di ispirazione fondamentale per il pensiero politico moderno. I suoi ideali politici, uguaglianza tra i cittadini, libertà, rispetto della legge e giustizia, hanno forgiato il pensiero politico occidentale nel corso dei secoli. Gli ideali e gli scopi della democrazia ateniese sono narrati in modo singolarmente dettagliato nella famosa orazione funebre di Pericle, eminente cittadino, generale e politico ateniese. L'orazione esalta con queste parole la forza politica di Atene.